Si aspetta l'autopsia per fare chiarezza sulla morte di Lorena Paolini, la donna di 53 anni morta ieri intorno all'ora di pranzo nella sua abitazione nella zona artigianale di Contrada Casone di Ortona. È stato il marito rientrato a casa dal lavoro a trovare la moglie in fin di vita sul divano ed a lanciare immediatamente l'allarme. Purtroppo è stato vano il tentativo da parte dei sanitari di rianimarla. Dalla ricognizione cadaverica fatta dal dottor Cristian Dovidio sarebbero emersi aspetti che potrebbero escludere l'ipotesi di un malore come causa della morte. Ci sarebbero infatti dei segni sul collo che farebbero sorgere dubbi ed ipotizzare uno strangolamento. Sul posto ieri è arrivato anche il pubblico ministero, sostituto procuratore Giuseppe Falasca. I carabinieri di Ortona hanno effettuato tutti i rilievi ed in caserma sono stati ascoltati i familiari della donna che lascia due figlie giovanissime alle quali era legatissima. Anche questa mattina i carabinieri comandati dal capitano Luigi Grella sono tornati nella casa per ulteriori rilievi. Intanto la notizia della morte di Lorena ha lasciato sgomenti tutte le persone che la conoscevano ed i vicini che la ricordano come una persona stupenda. Una persona stupenda, bravissima, salutava, era una mamma d'oro, portava sempre le bambine, tutte le mattine a scuola, orso, il cane, sempre qui veniva a fare le passeggiate. Rispettosa non ciò da dire niente, è una famiglia stupenda.